ciao fragoline e ciao fragolini allora questo è l'ultimo video del 2023 che vedete quest'anno perché poi l'anno prossimo ci saranno video nuovi prima di iniziare questo video voglio augurarvi buone feste buon natale e ovviamente buon anno per l'anno che verrà l'ultimo video come avevo detto nell'altro gratte vinci ho preso questo qua che ricco natale ne ho presi due e ho speso 20 euro per cui adesso vediamo e li grattiamo insieme tutte e due e niente per cui adesso vediamo se vinco qualcosa per finire questo 2023 e niente buon anno buon 2024 e buon natale per per questi questi giorni di festa l'ultima cosa sono stata diciamo una settimana senza far video perché mi hanno bloccato il canale e per una settimana youtube non mi poteva diciamo far pubblicare i video per cui volevo avvisarvi di questo che il canale per una settimana è stato bloccato e se non mi seguite sull'altro canale su fragolina reale official che il secondo canale per diciamo come avevo detto nell'altro video per il rischio che questo canale potrebbe essere cancellato da youtube e dalle persone un po stronze che mi segnalano i video che quelli vecchi ovviamente e vi ricordo di andare a seguire nel secondo canale e poi prima di natale è successo anche un'altra cosa che ve lo dirò a gennaio vi farò un video per farvi capire cosa era successo il 15 di dicembre e che non è una cosa bella e poi niente come avete visto una settimana senza video sto riprendendo diciamo un po di fretta i vlog mass tutte quelle cose quei video che in teoria avevo già registrato e sono indietro per cui se per caso vedete i video vecchi è perché appunto sono rimasta indietro una settimana per colpa delle persone che mi hanno bloccato tutto per cui niente volevo avvisarvi di questo dato che molta gente mi segue ma non è ancora scritta al mio secondo canale detto questo guardate tutto il video e buona visione noi ci vediamo l'anno prossimo ciao allora iniziamo a grattare il gratte vinci partiamo da sopra anzi partiamo dal bonus questo qua il bonus è la candela e di qua l'arena allora il primo gioco qui abbiamo la tombola facciamo così così non lo vedete calice le carte la girland musica l'angelo si sono storto perché adesso sto storto io il camino musica e il calice ok qui era da trovare i simboli uguali i tre simboli uguali ma abbiamo trovato sono musica musica calice 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 basta per cui qua non l'abbiamo vinto passiamo al secondo i numeri vincenti sono 58 27 22 15 e 32 vogliamo vedere se il bonus lo guardiamo dopo e abbiamo un 15 che non c'è un 25 che non c'è 39 non ce l'abbiamo 40 niente 57 niente 14 no 33 abbiamo 32 abbiamo 32 34 non c'è 43 non c'è 49 non ce l'abbiamo 41 neanche 36 niente 36 niente niente e l'ultimo che è il 29 non c'è vediamo il bonus il 44 non abbiamo il 44 per cui il secondo è perdente facciamo il terzo gioco 47 51 59 qua 54 e 55 sotto c'è 57 che non c'è 35 no 50 niente il 28 non c'è 13 non c'è 19 neanche 34 non c'è 20 neanche 23 neanche 25 35 non c'è 38 non c'è 42 c'è 47 16 non c'è neanche il 18 il bonus è il 21 però abbiamo il 23 e il 20 per cui non c'è e neanche questo terzo gioco diciamo perdente poi troviamo il prezzo uguale abbiamo un 10 un mille un 20 un un 10 dai che troviamo un altro gioco 500 e l'ultimo è 30 bene neanche il 4 il quarto gioco è perdente per cui vuol dire che questo biglietto è perdente iniziamo bene l'ultimo anno andiamo qua sempre sul bonus che c'è la renna invece di qua abbiamo la luna iniziamo con il primo cammino canettone trombetta arte angelo babbo natale Ghirlanda Camino E carte Bene Prima gioco perdente Passiamo al secondo 43 35 33 47 E 25 Allora Sotto abbiamo Un 41 Che abbiamo al 43 Un 39 Che non c'è Un 11 Neanche Un 58 Non c'è Un 51 Non ce l'abbiamo 36 Abbiamo il 35 Che sfida 18 Non c'è 37 Abbiamo il 33 54 Non c'è 28 Abbiamo il 25 13 13 Niente 45 Abbiamo il 43 Il 47 49 Niente E il 44 Abbiamo il 43 Il bonus Stato dimenticando È 16 Abbiamo l'11 Il 18 Il 13 Per cui Direi che è perdente Il secondo gioco Terzo gioco 29 28 53 60 E 27 Qua abbiamo 52 Ma C'è il 53 58 Niente 40 Niente 54 53 Che cazzo 11 39 50 Non c'è Il 23 Vediamo il 27 44 Non c'è 46 Non c'è 46 Non c'è 19 Lasciamo la casa 12 Il 15 Niente Per ultimo Il 34 Anche questo È perdente Perché è tanto Abbiamo il 26 Di bonus Ma qui c'è Il 23 E qui è perdente Ultimo gioco 100 100 Oh Ma va a fare un brodo 10 Da un bel 120 E allora porta spiga Ui E 50 Mila Che bello Ci ho speso 20 euro Per niente Perché alla fine Non ho vinto niente Questi due grattivi Finisci Che ovviamente Sono perdenti Perché Quando mai Quando mai Volevo finire Il Proprio il botto Di capodanno Invece direi Che proprio Ho voluto Provare a spendere 20 euro Perché ho detto Forse Appunto Avrò culo E invece Solo una ragazza Ha vinto i soldi E io invece Non ho vinto niente Io sarei curiosa Di sapere sotto qua Cosa c'era Se Ciao 50.000 E anche di qua Qua 100 Che poteva essere Una buona cifra Ma invece Direi Di no Bene Chiudiamo con questo video Proprio in bellezza Che non abbiamo vinto niente Spero lo stesso Che vi è piaciuto E che vi ho tenuto compagnia Detto questo Io vi auguro Buon anno Buone feste E I miei video Non so Quando inizieranno A gennaio Probabile che inizieremo Cioè Inizierò a farli Il 5 di gennaio Non lo so Devo ancora valutare Dato che ho trovato Anche un altro Nuovo lavoro Diciamo che adesso Sarà molto difficile Registrare i video Però Diciamo che Proverò Lo stesso A vedere Se riesco a fare Altri video Molto belli Detto questo Io vi ragoro Buone feste Buon anno E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao